Mi chiamo Simone Di Chiorio e sono uno studente lavoratore, laureato in lingue e culture straniere presso l'Università di Roma 3 e futuro laureato magistrale in lingue e culture per la comunicazione internazionale. Affascinato sempre dal mondo dell'arrampicata, avevo deciso di intraprendere questo percorso. Sono arrivato a Roma Center Climb dopo aver visionato altre palestre e approcciato con altri istruttori. Il mio arrivo a Roma Center Climb è stato da subito coinvolgente al massimo perché già dal primo colloquio con Marco Nescatelli ho sentito dentro che attraverso la spiegazione del metodo da lui ideato avrei trovato quello che cercavo. una completa e profonda connessione con me stesso, con quelle che sono le mie emozioni, nella capacità di gestirle e di farne tesoro, qualsiasi esse siano. Il metodo Gata Climb ideato da Marco Nescatelli porta proprio a questo, attraverso la disciplina dell'arrampicata a prendere pienamente, ma in modo veramente profondo, coscienza, facendo di capire qual è la connessione tra le emozioni e le reazioni che queste emozioni provocano nel corpo. Quello che mi ha affascinato da subito è stato il concetto che mi ha spiegato nella prima frase, devo dire la sincera verità, con la prima frase, dal primo colloquio, la prima frase del primo colloquio con Marco che mi ha accettato da subito. L'idea di fare le cose mettendo un piede dopo l'altro, un passo dopo l'altro, di non fare due passi alla volta, ma di farne uno dietro l'altro e ogni passo capire quello che ti succede, quello che senti facendo quel passo. È un concetto che a me ha affascinato da subito. E dove ti ha portato? Mi ha portato, mi ha portato a… ecco, lo sto riscontrando anche nella vita di tutti i giorni. Mi ha portato ad avere una, sicuramente una maggiore consapevolezza di me stesso, dei miei mezzi, ma ti porta proprio a capire chi sei e cosa senti. che è il fulcro, è il fulcro di tutta la vita di una persona. Non sono contento, sono felice. Sono felice. Ogni volta che entro in palestra, poi ultimamente anche con le prime uscite su roccia, è un continuo di sensazioni nuove, di emozioni nuove, di riscoperta ogni volta e di rimessa in discussione di te stesso ogni volta. E' veramente una ricchezza cui puoi attingere in continuazione. Grazie. Grazie a te Marco, davvero col cuore.